Noi maglia bianconera, l'Atalanta in maglia verde, verde speranza mi vorrei dire, speriamo che quel verde speranza sia il nostro, ci stiamo cagando sotto eh se quadrado ha l'offensiva Di Bala, ah protegge male il pallone, infatti glielo scippano, può ripartire il Papu, Bentancur va a correggere questo pallone, delit contro il Papu, il Papu bravissimo per Duvan Zapata Eh abbiamo giocato male qua, l'abbiamo giocata male, non siamo riusciti a seguirli, hanno giocato bene loro il pallone qua, e c'è il gol di Duvan Zapata su assi del Papu Gomez Eh loro stavano spingendo, loro stavano spingendo, noi abbiamo protetto male qua il pallone, è sulla ripartenza, non abbiamo assolutamente capito la giocata del Papu, delit è stato abbastanza bevuto mi pare, rivediamolo, Papu Gomez, Bentancur non va in pressing efficace, il Papu Gomez si beve delit che va completamente fuori posizione, e lì Duvan non la può sbagliare, piattone destro, nell'area piccola, prendiamo gol, oh cazzo gliel'ha pestato, nooo, gli ha pestato il pene col tacco, che male, ma vacca ad un cane, con i tacchetti, Duvan Zapata pesa 100 kg, bravo Paolino, bravo Paolino, bravo! Fiammate, idee, momenti, giocate, campioni, sì infatti bisogna essere positivi, poi ovvio che c'è della negatività, nel senso che abbiamo visto un brutto primo tempo, siamo andati di sotto, non ne siamo mai stati in partita, però io stesso ci credo, io stesso ci credo nel poter ribaltare questa partita, non sarà per niente facile, ma dobbiamo crederci, quindi io voglio adesso sapere da voi, ce la facciamo, ce la facciamo, vai, scrivetemi in chat, dai, carichiamoci, caricatevi, caricatevi, dai, cazzo, dai eh, oh c'è la Juventus, dai eh, dai, 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 mano, calcio di rigore, era dentro l'area, ha indicato immediatamente il dischetto ragazzi, sul primo replay mi sembrava rigore, sull'ultimo un po' meno, però è uno contro quattro che ci hanno fatto vedere, che non mi è sembrato, Cristiano dal dischetto, contro Gollini, Cristiano! C'è, 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 1 a 1, 1 a 1, alla faccia di chi non ci credeva, non so neanche più parlare, alla faccia di chi non ci credeva, dai eh, dai eh, dai, 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 sì, caricali Cristiano, fagli capire che abbiamo bisogno, 1 a 1, Pippi non ci arrivi, vai, raccogli sto pallone, che giochiamo ancora a sta partita, che è tutto aperto, non è finito un cazzo, dai, 1 a 1, sempre lui, Cristiano Ronaldo, ve l'ho detto, è una fiammata, un episodio, un momento, un flash, niente, quello che c'è, vediamo ora i cambi, se cambieranno, o se rimarranno gli stessi, dai! Fuori di un millimetro Malinoski, dentro per Cristiano, che la stoppa, la mette giù, Cristiano, la para, la para, Pippi! Ci eravamo vicinissimi, eh, vicini come la crosta al formaggio. Pallone perfetta, e Malinoski l'ha messa dentro. Sì, grande azione di Muriel, per due volte è riuscito a mettere il miso pallone dal fondo, poi la palla è arrivata da Malinoski, ha calciato di destra, un po' tantissimo, sul primo palo, culminando Cessni. Rivediamo, l'apertura, stop, stop a seguire, destra perfetta. 2-1 per l'Atlanta. Rigore, 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 rigore! Mano clamorosa, mano clamorosa, mano clamorosa, mano clamorosa! Calcio di rigore! Mano clamorosa, mano clamorosa, mano clamorosa! Dai, dai! Sì! 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 28 gol in 28 partite per Cristiano, 2-2 al novantesimo! Cazzo! Cazzo! Perfetto! 5 secondi! Finisce qua, ragazzi, madonna santissima! Madonna santissima!